Buongiorno signori, grazie di essere venuti, ringrazio le autorità, gli invitati, come tutti gli anni noi ricordiamo la scomparsa di Capitan Giulietti che è avvenuta il 20 giugno 1953 e noi tutti gli anni lo ricordiamo in prossimità di quella data, la prima domenica vicina al 20 giugno, e sono tre giorni dalla sua morte, e il 23. Ci domandiamo tutti gli anni perché ci ricordiamo di questa grande figura, ci la ricordiamo perché Capitan Giulietti è stato un grande italiano e un grande riminese, quindi noi siamo orgogliosi di essere suoi concittadini, è stato un combattente tutta la vita e ha combattuto in quella grande parte del secolo corso, quindi il novecento, che è stato rifiuto il secolo breve, ma che pur nella sua brevità ha combinato con quasi dei disastri numerevoli, e lui è un protagonista della storia del novecento, io vorrei dire e aggiungere che è un protagonista di quelli buoni, non voglio qui aprire una polemica che non finirebbe più e fare un corso di storia, una lezione di storia, però lui combatte per i diritti del popolo marinaro, della marineria, lui era marinaio, figlio di marinai, suo padre di tradizioni garibaldine risorgimentali, combatte nella disastrosa battaglia di Lissa nel 1866 durante la terza guerra di indipendenza, le sue tradizioni quindi erano risorgimentali, massiniane, garibaldine, non tradì mai gli ideali del risorgimento e combatte soprattutto per riscattare la gente di mare, lui conosceva bene la storia, la tragedia, la vita, grama, a dir poco, della gente di mare, abbiamo già parlato di come venivano trattati i marinai sulle navi, erano delle ciurme e non degli equipaggi, lui capì che bisognava fare qualcosa e massinianamente decide che si dovesse fare qualcosa e lui la fece, dedicò tutta la sua vita per il riscatto di questa gente, per i diritti, fu un grande sindacalista, quando morì il 20 giugno appunto del 53, lui aveva soltanto 74 anni, ma è come se ne avessi avuto i 700, aveva combattuto una lotta secolare, aveva riscattato la marina, la marineria italiana e non soltanto direi europea, fu un riferimento anche per la marineria mondiale, ancora oggi lo ricordano in tanti porti e in tanti paesi del mondo. Il suo funerale fu interrotto a Roma da un discorso fatto a braccio dal grande sindacalista di Vittorio che gli riconobbe queste qualità di combattente sindacale, di grande sindacalista e lo giudicò quindi un compagno di lotta. Non aggiungo altro perché altre persone oggi dovranno parlare, intanto voglio ringraziare l'assessore Morolli che ci onora della sua presenza, che dirà due parole, subito dopo, prima delle relazioni ufficiali della giornata, l'ingegnere Claudio Masini, a nome dell'Istituto per la storia del risorgimento, farà un'introduzione. La parola all'assessore. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. È sempre con piacere che partecipa a questa iniziativa di ricordo, di riflessione e di consegna. Consegna di una figura storica, importante, e che, come detto prima dal discorso precedente, è stata protagonista del secolo scorso. Non so se un secolo, quello scorso, un secolo breve o un secolo fondamentale. Qui c'è anche De Camillis, dell'Ampi, quindi la storia nelle storie del secolo scorso. Però, come detto prima, è anche un momento di consegne. Allora pensavo a cosa può dire la mia generazione di fronte a momenti come questi. La mia generazione, di fronte alla memoria storica, ha un dovere che non deve essere superato dagli usi, costumi e dalle mode. Perché in un tempo in cui la memoria è un backup del proprio cellulare, del proprio computer, del proprio tablet, pensare di esternalizzare la memoria è il più grave degli errori. Quando si esternalizza la memoria non rimangono dentro di noi i significati, gli esempi, le storie e gli errori commessi. Errori che poi diventano anche modi per evitarli nel percorso. Se è stato il secolo breve quello precedente, i tempi di questo secolo come li definiamo? Sono secoli o sono tempi reali o sono i tempi della nuvola in cui mettiamo tutti i nostri dati? Perché spesso la storia non è solamente episodio, è anche il contenitore in cui essa si svolge. Dov'è la nostra vita oggi? Non è più nei campi di battaglia, è in quello che lasciamo di noi con quello che viviamo tutti i giorni. Ecco, l'appuntamento di oggi, venendo qui dopo aver depositato la corona in via destra del porto, mi ha fatto pensare alla brevità dei nostri tempi. Ma in quella brevità non è che si perdo gli insegnamenti. La storia di Capitano Giulietta è anche un grande insegnamento per tutti. Allora in tempi velocissimi, in tempi in cui si decide di delocalizzare la memoria breve, corta, delle nostre vite, dei nostri tempi, allora era giusto anche riflettere al tempo presente una figura come questa, quella del Capitano. Quindi non è solamente un discorso che vale per Rimini, che vale per l'Europa, vale per questo tempo, riguarda tutti quanti noi. Qui abbiamo anche degli storici, quindi il tema della storia dei suoi tempi è fondamentale. Ecco, è la memoria un esercizio e un dovere che non dobbiamo abbandonare e oggi ricordiamo questo nostro dovere collettivo. Grazie. Parola a Claudio Magini. Buongiorno a tutti e a tutti benvenuto. Io parlo come Presidente quest'anno dell'Istituto Storico del Risorgimento Italiano che nelle manifestazioni anche passate si è sempre relato insieme con il Comitato Capitano Giulietti proseguendo quell'impegno e quell'attività che tuttora ci manca del Capitano Giulietti. Con questo impegno ci siamo impegnati, con questo impegno, con alcuni aspetti. Il Risorgimento cosa c'entra con il momento attuale, con il 2019. In realtà le radici da cui le attività della cooperativa dei lavori d'attori del mare, diciamo dei rappresentanti sindacali dei marittimi eccetera, si fonda proprio su una ricondizione risorgimentale. Il primo risorgimento che noi intendiamo quello che è l'unità d'Italia nel 1861 si è proseguito nella prima guerra mondiale fino al 1918. Il secondo risorgimento è quando l'abbiamo persa di nuovo l'unità nazionale, quando c'era nel sud Italia il regno d'Italia e nel nord Italia la Repubblica Sociale Italiana. E qui c'è il contributo di tutti coloro che l'hanno riunificata di nuovo. Il terzo risorgimento è quello ancora più difficile, è la storia che coinvolge i principi della giovine Europa come Stati Uniti d'Europa, che ancora è un percorso talmente difficile e lungo che non ci immaginiamo ancora quali scenari potrà proporsi. Ma nel momento attuale noi assistiamo a una perdita di valori, a una perdita di ideali che testimonianze come quelle di Capitan Giulietti sono fondamentali, ma non solo come portato di memoria, sono fondamentali perché ci sono degli organismi che stanno ancora vivendo, che usufruiscono di quegli ideali di cui lui fu l'interprete. Io mi riferisco in particolare alla cooperativa dei lavoratori del mare. Mi piacerebbe che nei prossimi anni, se non il prossimo, riuscissimo a creare tutti i documenti e la storia di questa cooperativa dei lavoratori del mare, ci sono dei discendenti come Ghirardelli, discendenti di Marino Ghirardelli, quindi potremmo metterci poi d'accordo e confrontarci nella raccolta da una parte della documentazione storica, ma dall'altra nell'utilizzo che questa documentazione storica può fornirci per la nostra contemporaneità, quindi per evitare che ci si dimentichi di quanto oggi vive ancora di Capitan Giulietti. Ed è nel nostro fianco, è la parte più importante, noi facendo le ricostruzioni storiche sono occasioni per andare a vedere la contemporaneità di queste idee e degli impegni che nel caso Capitan Giulietti ha espresso. Per cui se c'è qualche rappresentante della cooperativa di lavoratori del mare, magari alla fine della trattazione dei saggi e dei relatori, se mi viene a cercare, ci organizziamo. Grazie e buon ascolto. Grazie. Intanto mi unisco al ricordo di Moroni, è impossibile non ricordarlo oggi, poi dall'altra poi mi scuso perché tra mezz'ora devo andare via, quindi voglio scusarmi perché non avrò tutto il tempo per poter stare, però ci tenevo una scusarmi secondo Moroni è stata una persona per me importante a livello umano, noi non siamo cariche, siamo cariche protettive, le persone contano molto, quindi unirei un applauso di ricordo per quella persona. Il presidente Federiano Moroni è qui presente perché è nel testo e nel ricordo e nel cuore di un scudimo. Adesso la parola al primo dei relatori, Andrea Montemaggi, che tratterà il tema Giuseppe Giulietti nel biennio nero 1921-1922. Prego. Mi scuso dell'umore ma è la fabbrica del ghiaccio. Buongiorno a tutti, ringrazio il comitato Capitan Giulietti, come sempre, anche l'Istituto Storico per la storia di sorgimento e anche Aleardo Cingolani, qualità di presidente, per averci concesso la sala e l'occasione di ricordare in questo momento Giulietti. Anch'io mi associo, mi dispiace purtroppo che non funzioni il proiettore, avevo preso proprio una fotografia di Valeriano Moroni insieme a lui, proprio per cominciare così, perché purtroppo è stato per noi tutti una grande mancanza il fatto che io e lui abbiamo avuto per un certo periodo di tempo veramente una frequentazione quotidiana per scoprire un po' il personaggio Giulietti e per affrontarlo, forse l'ho già detto l'anno scorso, ma abbiamo chiesto continuamente in giro per l'Italia documentazioni, ci mettevamo insieme a guardare i microfilm che ci arrivavano in biblioteca, quindi è stato per me veramente una grandissima perdita. Mi dispiace, tutte le volte ci penso, infatti ho messo proprio questa fotografia insieme a lui, come ricordo di una manifestazione precedente su Capitan Giulietti, perché è stato anche lui il fautore della dedica del mollo di Levante a favore proprio di Capitan Giulietti come attualmente. Brevemente, ricapito in due secondi che è stato Giulietti, è stato un sindacalista attivo fin dal 1901, cioè era militare della Marina Militare, però già aveva testimoniato in un processo che avevano fatto i socialisti contro le ruberie che avevano fatte all'interno della Marina Militare, che poi finì appunto con la condanna dell'ammiraglio che era ministro all'epoca in Bettolo. Poi nel 1909 lui naviga, nel 1909 si ferma, era già diventato capitano del lungo corso, si ferma, diventa capo di una federazione che era praticamente inesistente, la ricostituisce da capo, entra nelle file di interventismo, partece come volontario alla Prima Guerra Mondiale, nel 1924 viene esautorato dal fascismo e viene nel 1927 mandato a confino a Nuoro. Poi nel 1944 con la caduta del fascismo, lui stava a Roma, nel momento in cui dopo il 4 giugno L'Uma Riemi nel 1944 viene liberata, Giulietti riprende il suo ruolo di capo dell'organizzazione. Dopo uno scontro iniziale di circa due anni con la CGL, poi in realtà si crea un rapporto di amicizia, come si è ricordato, con Di Vittorio e diventa parte all'interno della CGL, tanto che come diceva giustamente prima l'amico Giovanni, ci sarà un discorso proprio sul funerale fatto da Di Vittorio e Giulietti molto importante. Io ho fatto anche un breve scritto sui rapporti tra CGL e proprio su un saggio, sui rapporti tra Giulietti e CGL, andando all'archivio del CGL a Roma, effettivamente si è visto che c'era un tono nella corrispondenza tra Di Vittorio e Giulietti veramente molto particolare, molto diversa da tutti gli altri rapporti, quindi effettivamente il rapporto è stato molto particolare. Dunque, vorrei fare molto brevemente, portare via un sacco di tempo alcune premesse perché altrimenti non capiamo per me esattamente Giulietti in questo periodo. Allora, prima di tutto dico mai giudicare la mentalità di ieri con la mentalità di oggi, cioè non dobbiamo sempre pensare che non dobbiamo ragionare con le nostre categorie mentali perché all'epoca erano molto diverse e vedremo perché. Il fascismo del 19 e del 1920 era completamente diverso dal fascismo del 1921, del 22 e soprattutto del 39 e del 40, cioè quando il Duce era al suo massimo splendore. Nel 19 era completamente diverso, quindi capiamo anche perché c'è la vicinanza tra Giulietti e Mussolini. Terzo e quarto, anzi forse probabilmente, Giulietti era molto scaltro, era molto astuto, era molto opportunista e aveva un rapporto poco limpido col denaro, bisogna dire le cose come stanno, per cui anche questo ci fa capire il perché c'era grande amicista tra Giulietti e D'Annunzio, che era un altro soggetto che il denaro, diciamo così, ci dava molta importanza, per cui anche questo è un aspetto da capire, perché noi vedremo ripetutamente come Giulietti ricorre a D'Annunzio e come mai D'Annunzio gli dà sempre appoggio a Giulietti, ci dobbiamo anche rispondere a queste domande. Altro elemento che Mussolini è ancora più scaltro, dico io, astuto e opportunista di Giulietti è ancora meno limpido col denaro. È noto come durante il periodo fascista moltissimi gerarchi ne approfittassero per fare accapparamenti e cose del genere e Mussolini tollerasse questa situazione. Addirittura, pochi sapranno, ma Arpinati è stato allontanato dal suo posto nel 1933 come sottosentrale del Consiglio perché aveva denunciato Mussolini le manovre oscure di sua moglie Rachele, quindi con le temi di bagno di Romagna e anche con la vicenda che forse qualcuno saprà della villa di Riccione. Quindi lui aveva denunciato questo e Mussolini come ringraziamento l'ha mandato al confino, l'ha già autorato immediatamente, Arpinati e definito dal punto di vista politico totalmente. Questo vi fa capire anche il rapporto così. Un'ultima cosa che è stata detta molte volte, che secondo me è anche forse da ripetere, D'Annunzio nel 1920, 21 e 22 non era un fascista perché ancora lui in quel momento credeva di essere al di sopra delle parti, credeva ovviamente. Poi nel 23, piano piano, soprattutto nel 24 viene, forse la parola giusta non è, però insomma comprato in qualche modo e diventa un po' amico del regime. Però noi stiamo esaminando un periodo, 21 e 22, dove ancora questo non c'è. Ecco perché Giulietti si rivolge continuamente a D'Annunzio, perché non possiamo pensare che D'Annunzio all'epoca fosse già organico al partito. vi leggo molto velocemente qual era il programma fascista del 1919-1920. Noi vogliamo la stupazione parziale di tutte le ricchezze, il sequestro di beni e congregazioni religiose, l'abolizione di tutte le mense vescovili, poi l'istituzione dell'inizio nazionale, questa è l'unica cosa che ha fatto, la nazionalizzazione di tutte le fabbriche di armi e di emozioni esplosivi. Poi, viene un'altra, il soffraggio universale, l'abolizione del Senato, formazione di consigli nazionali, tecniche del lavoro, tutte cose che il fascismo non ha assolutamente fatto. Questo era un programma del 1919-1920, quindi era un programma in cui in quel momento si parlava. Non dobbiamo ragionare col programma, con quello che facciamo sul 1939, dobbiamo sempre pensare a quel periodo. Ecco perché quando vediamo questi collegamenti tra Giulietti e il fascismo, dobbiamo pensare a questo tipo di programma. Altrimenti abbiamo una visione distorta. Siamo arrivati la scorsa volta, sulla storia di Giulietti, parlando dell'impresa di fiume. La fine, la fine dell'impresa di fiume, sappiamo tutti come Giulietti in qualche modo finanziò, in tutte le maniere appoggiò, fu l'aiuto più determinante, forse per un annunzio, per mantenere fiume per circa un anno e tre mesi, fino alla fine del 1920. Ma è bellissimo, adesso purtroppo non si può vedere, vi metterò la testimonianza di Nino Daniele, che è stato uno dei principali collaboratori di Annunzio, che proprio nel momento prima che cade Annunzio, c'è il Natale di sangue, alla fine del 1920, va da Giulietti e gli chiede l'aiuto. E gli chiede, sei l'unico che ci può aiutare per salvarci. E Giulietti gli dice, ma siete voi che vi siete sbagliati? Il trattato di Rapallo, cioè quello che è stato discusso, era la cosa migliore che dovevate fare. E quindi dice, non è che Nino non vi voglio aiutare, è che io vi dico che avete sbagliato, ma io salverò sempre ad Annunzio. Gliel'ho detto, ma ad Annunzio per me sarà sempre la persona che io aiuterò. E infatti questo è, diciamo così, lo scopo. Fiume doveva essere la Svizzera di tutti i sovversivi, il rifugio degli uomini liberi, il faro dei popoli oppressi. Il comandante nel quale ho grande fede, la voce del nuovo mondo, del nuovo cristianesimo. Questo è la persona a cui ho fiducia. E questo dobbiamo fare. Quindi io posso dare aiuto a D'Annunzio, ma il fiume è persa. Quindi su questo D'Annunzio lo dice. Giulietti dove opera? Opera a Genova. Allora dobbiamo parlare di Genova. Di Genova è il fascismo genovese. Il fascismo genovese nasce in una situazione, non lo dico io, lo dicono i maggiori storici, tra cui Littleton che probabilmente insieme a De Felice è quello che ha esegnato meglio questa situazione, era un fascismo di sinistra a Genova. Perché la massa prevalentemente era composta da operai. E infatti i primi dirigenti del fascismo del 19-1920 sono tutte persone che sono vicine a Giulietti. E Giulietti, molto probabilmente, le prove non ci sono, ma è abbastanza evidente da fatti che si vedono, finanziò stesso il fascismo genovese. E ripeto, non dobbiamo giudicare il fascismo del 19-19 con quello del 1939. Ecco, nel 19 c'erano queste idee. E lui le finanzia. E finanzia soprattutto una parte del fascismo. Il fascismo cioè che si appoggia agli operai, cioè alle persone umili. Quello che si contrasta contro gli armatori, che era la sua, diciamo, la sua controparte. Dunque, adesso cerco un pochettino, questo io ho fatto nelle depositive, si vedevano proprio le parole che dice Litteton su questo aspetto. No, purtroppo non vanno, non possiamo farlo andare. Dunque, addirittura ci saranno quelli, alcuni partecipanti al 23 marzo, cioè i primi Sansepolcristi, che vanno addirittura a Genova dicendo che Giulietti ha ragione, che è di loro. E infatti ci sono scontri all'interno del fascismo genovese proprio per questo. E addirittura dice a un certo punto che Mussolini però s'arrabbiò e andò su tutte le furie, perché questo, l'atteggiamento, non era quello che lui voleva. Sappiamo come i collegamenti tra Mussolini e Giulietti hanno stati molto forti nel 1914-1915 fino al 1919 per poi rallentarsi sempre di più. Gli armatori a un certo punto cominciano a capire che il fascismo potrebbe essere dalla loro parte. Siamo nel 1920, quindi ci è passato circa un anno. Gli armatori cominciano a inserirsi dentro il partito fascista e addirittura emarginano gli interventisti. Voi sapete che Mussolini ha fatto una grande campagna per cui l'interventismo era a favore del fascismo, gli arditi eccetera, a favore del fascismo. Ecco, invece gli armatori addirittura qualcuno aveva avuto dei processi, perché? Per disfattismo. Addirittura il capo degli armatori era stato condannato perché trafficava con i tedeschi durante la prima guerra mondiale facendo degli affari con i tedeschi, quindi con la controparte, eppure loro prendono il potere e all'interno del fascismo ed emarginano quelli, diciamo così, la fascismo degli operai. Perché questo? Perché loro avevano i soldi. Allora, noi dobbiamo pensare che, ripeto il discorso di prima, denaro. Non dobbiamo mai dimenticare l'importanza che ha il denaro. Mussolini aveva nel 1920 una grande fama di denaro. Aveva una grande fama perché non le aveva i soldi. Il popolo d'Italia non vendeva. Aveva fatto le elezioni, aveva avuto pochissimi voti e nel 1919 è stato un deputato solo, Valentino Coda, con cui vedremo, che è proprio di Genova, caso strano, e vedremo perché. Allora, cosa succede quindi? Che Mussolini si trova a corti denaro e quindi Giulietti, che l'aveva finalmente finanziato, non bastava più. Arnaldo Mussolini, fratello di Benito, che era direttore amministrativo del popolo d'Italia, ha continuamente appoggiato Giulietti per tutto il denaro che gli continuamente gli dava, ma a un certo punto non bastava. E qui nasce quindi la svolta di Mussolini. Mussolini diventa la forza degli agrari in Emilia Romagna, ma diventa la forza degli armatori a Genova. Qui c'è una grande, diciamo così, forse è difficile spiegarla in parole tecniche, perché purtroppo le cose si guardano sempre solo dal punto di vista politico, ma dobbiamo pensare quanto invece c'è importante la parte economica e il denaro. Giulietti aveva fatto nel 1920 un contratto di ruolamento assolutamente rivoluzionario. I marinai venivano trattati, come dicevamo prima, in maniera completamente diversa da prima. Venivano finalmente trattati come persone normali e quindi avevano dei turni normali, condizioni di lavoro normale, e tra questi c'era un altro elemento molto favorevole per Giulietti. Aveva fatto sì che le paghe dei marinai ci fossero trattenute del 2% che andasse a favore del sindacato. Quello che adesso magari per noi tutti è normale, quella volta non lo era per niente, è stata un'invenzione di Giulietti. Allora, l'altro tenuto sindacale cosa voleva dire? Che i federati dovevano in qualche modo dare il 2% della propria paga a Giulietti, alla federazione ovviamente. Questo ha creato una grande massa di denaro a Giulietti stesso e quindi vedremo perché così poteva finanziare i dannunci. Ma dall'altra parte soprattutto creava una grande cooperativa alla Garibaldi di cui abbiamo parlato e faceva concorrenza agli armatori. E gli armatori quindi hanno cominciato a premere il suo partito fascista per entrare dentro e combattere questo. E quindi ci sarà la grande lotta. Un altro grande elemento che forse qualcuno lo saprà è stata in quel periodo la grande lotta tra le banche, banca commerciale e banca di sconto dell'ansaldo. Giulietti appoggia l'ansaldo, appoggia quindi i fratelli Perroni perché erano quelli che non erano gli armatori, gli armatori erano legati alla banca commerciale. però la banca di sconto fallisce nel 1921, l'ansaldo va a carte 48 e quindi questo appoggio molto forte che aveva Giulietti viene perso e quindi si trova ovviamente un po' in difficoltà. nel frattempo i fascisti genovesi cominciano a fare una politica diversa e cominciano anche a volere occuparsi dei marittimi e creano quindi una federazione che comincia a pensare una federazione di marinai che sia concorrente e questo ovviamente è il grande pericolo che corre Giulietti. Addirittura alla fine del 1920 quando il fascismo diventa squadrismo e cominciano gli attacchi, tutti ricorderete il 20 novembre del 1920 che a Bologna i fascisti attaccano i decidenti di Palazzo da Cursio per cui c'è il primo morto che avvengono tutte queste cose, avvengono anche a Genova e addirittura viene assaltata la casa di Giulietti e il fratello di Giulietti e di Domenico viene addirittura, ha molta paura che appunto venga anche lui diciamo, viene intimidito, deve ritirare tutto quello che ha perché altrimenti può essere anche lui percorso dalle bande. Quindi vediamo che abbiamo una situazione di progressivo pericolo. Giulietti ricorre allora sempre all'interno del fascismo agli esponenti più vicini tra cui c'era uno, un personaggio che adesso voi non conoscete se non indirettamente che si chiama Mastro Mattei perché sarà in futuro, nel 1933 diventerà prefetto di Bolzano e sarà quello che trasformerà Bolzano e farà tutta la Bolzano nuova, c'è il mio amico qui Giangi che lo conosce bene, l'arco della vittoria che ci sono, tutti quei monumenti che sono a Bolzano saranno costruiti tutti da Mastro Mattei. Mastro Mattei è invece all'epoca, nel 1921, segretario del partito a Genova, grande amico di Giulietti e finanziato a Giulietti, il quale cerca all'interno del partito di portare avanti la politica Giuliettiana. Quindi andiamo all'interno del partito questo. E addirittura come esponente a uno dei più grandi esponenti del partito fascista dell'epoca, amicissimo di Mussolini che si chiama Massimo Rocca, che è grande amico e quindi spera con questo di calmare le acque e infatti la federazione in quel momento non viene più attaccata. Quindi diciamo mentre tutte le altre organizzazioni vengono attaccate dal fascismo, questo non avviene. In compenso però, pregorsivamente, le condizioni dei mariti peggiorano moltissimo. Gli amatori non applicano il contratto e non vogliono le autore o tutti i turni che sono stati considerati, per cui le condizioni peggiorano. E non solo, ma col tempo fanno anche una politica, diciamo, di creazione di un gruppo marinario fascista e quindi un sindacato, una corporazione, lo chiamavano loro, un sindacato proprio fascista concorrente. Giulietti ricorre a D'Annunzio. Come dice Tasca, che è stato il primo grande storico del fascismo, grazie ai soldi fondi neri di Giulietti, come dice effettivamente lui veramente, D'Annunzio diventa, diciamo così, il capo spirituale della federazione dei marinai. E infatti è in questo periodo che comincia proprio, in qualche modo, D'Annunzio interessarsi veramente molto del sindacato e a porlo sotto la sua tutela. E anche per questo Mussolini non ha paura, perché D'Annunzio è troppo importante, è un personaggio di grandissima rilevanza, per cui ancora Mussolini non è così potente da poterlo affrontare. Vi ricordo che nell'aprile del 21 Giulietti si allea con Mussolini e fanno le elezioni del blocco nazionale e fa entrare in Parlamento 35 deputati fascisti, sono 35 in tutta la Camera, quindi ancora il fascismo non ha l'importanza che avrà successivamente e quindi anche Mussolini non può fare quello che vuole ancora. Però a Genova si continua a combattere su questo fronte. La grande fortuna di Giulietti è di arruolare tra di sé il grande eroe Luigi Rizzo, l'eroe due volte medaglia d'oro, fondatore dei varie navi, due corazzate austriache, diventa direttore della federazione della cooperativa. E quindi anche lui è un altro soggetto che è assolutamente inattaccabile e fa da scudo nei confronti anche Giulietti a questo punto di vista. E questo quindi comporta che Giulietti riesce, rispetto a altre federazioni, a rimanere sempre più diciamo abbastanza lontano. E adesso cerco sempre di sintetizzare, ma Mussolini non la prende molto bene, dice che si incontreranno e Giulietti usa queste parole, lo trovo molto abbuiato, quindi abbastanza, ma impotente, perché di annunzio rappresenta il nostro ancora troppo grosso. In compenso cominciamo ad avere un problema per Giulietti, ovviamente non vi potete ricordare, Giulietti aveva promosso l'occupazione di alcune navi zariste, perché nella Russia non c'era più lo zarismo, c'era l'Unione Giulietti, ma le navi giravano ancora con la bandiera dello zar. Allora lui le aveva occupate e le aveva consegnate allo Stato dicendo queste vanno consegnate ai russi veri, cioè ai russi rossi, cioè ai russi sovietica, perché sono loro navi. Ormai i russi bianchi non ci sono più, siamo nel 1920 e già la rivoluzione russa ci è stata da due anni. Questo ha portato un processo e quindi era stato spiccato un mandato d'arresto contro Giulietti, il quale finché c'era Nitti, però non l'aveva mai messo in esecuzione il mandato d'arresto. Invece arriva Giolitti e Giolitti, successore di Nitti, comincia a interessarsi. Giulietti era deputato, nel 1921 non è più deputato, perde l'umunità parlamentare e quindi di nuovo lo perseguitano, tanto che Giulietti deve scappare via e corre in un paese non italiano, guarda caso, che si chiama San Marino, che è un comodo stato, diciamo così, qui vicino, per cui lui dal San Marino in qualche modo riusciva a governare senza essere a Genova, anche tramite Rizzo ovviamente, poiché. Vado sempre avanti, sono passato velocemente, ci sarà il governo Bonomi che è un governo amico, in qualche modo, essendo socialista, riesce in qualche modo Giulietti ancora ad avere degli appoggi notevoli, anche per la federazione, finché arriva Fatta, invece, l'uomo di Giolitti, il quale invece, al contrario, ritira fuori il mandato di Giolitti d'arresto e dice adesso tu vai in galera di nuovo e quindi Giulietti deve di nuovo scappare a San Marino. Ma nel frattempo le cose diventano sempre peggiori, perché il fascismo diventa sempre più forte, sempre più importante e si crea quindi il sindacato fascista. Siamo all'inizio del 1922 e i fascisti creano questo grande sindacato per soppiantare quello di Giulietti. Quindi la guerra diventa proprio chiara, lampante, tra fascismo e Giulietti. E sono Michele Bianchi e Rossoni, sono i due principali sindacalisti fascisti che combattono alla morte contro Giulietti. Su Popolo d'Italia saranno un sacco di articoli contro Giulietti in continuazione proprio per questo motivo. In particolare Rossoni che è anche un altro di quei fascisti che poi si scoprirà alla fine della guerra che aveva fatto, che ha parato tanto denaro da parte perché era un altro di quei soggetti abbastanza compromessi con il denaro. Ecco, sarà quello che in qualche modo sarà un nemico numero uno di Giulietti e quindi cercherà sempre di soppiantarlo. Bianchi diventerà un quadrunviro quindi sarà particolarmente importante ma si disinteressa del lotte marinare che invece rimarranno con Rossoni. Giulietti a questo punto fa una grande lotta, astutamente combatte, combatte all'interno del fascismo, combatte all'interno dei marinai, fa vedere le differenze e infatti nel giro di poco tempo gli stessi fascisti dichiarano che la loro mossa è stata un fallimento. Diranno dieci anni dopo eravamo un gruppo di volontariosi, cinque o sei, ecco quindi pensate diciamo così lo seguito che ha avuto ma è serviva soltanto per dare importanza. Infatti Mussolini dirà addirittura che un evento importante come questo è più importante addirittura della morte del Papa. In quel periodo era morto il Papa, ben detto il quindicesimo, nel gennaio del 22, quindi dice la fondazione del sindacato fascista è più importante, addirittura era arrivato a questi eccessi in questo modo. Sapete però che la violenza fascista aumenta sempre di più, siamo nell'estate del 22 e quindi il pericolo comincia a diventare sempre maggiore e D'Annunzio diventa di nuovo il grande protettore. Si chiama D'Annunzio di nuovo, D'Annunzio manda De Ambris che era stato il suo capo di gabinetto e lo porta all'interno della federazione come suo rappresentante per tutelare la federazione. De Ambris è stato quello che ha scritto, sapete, la carta del Carnaro nella forma giuridica, è stato quello che abbiamo parlato la scorsa volta in qualche modo ha avuto una importanza fondamentale all'interno della impresa di fiume e quindi D'Annunzio diventa di nuovo questo. Ma nell'agosto del 1922 c'è lo sciopero legalitario, c'è lo sciopero fatto nei confronti del fascismo per la violenza, ma lo sciopero fallisce perché i fascisti riescono a saperlo in anticipo, probabilmente io ho ricostruito per quanto mi riguarda che sia stato proprio il lavoro, cioè il giornale dove lavorava Giulietti e Ansaldo addirittura il giornalista che abbia svelato in anticipo, magari per avere uno scoop, questo sciopero legalitario. I fascisti due o tre giorni prima lo sanno, quando scopero lo sciopero mandano la loro squadra a sostituire i scioperanti per far funzionare tutto quello che doveva essere bloccato dallo sciopero. Quindi lo sciopero fallisce e non solo, ma cominciano gli accialti violenti, verbali, come tutti. Poi ci parlerà su questo, su questo periodo molto meglio per Rimini, Moreno di me. Però Giulietti ha paura, prende molta paura, effettivamente comincia a capire che lui rischia la vita, perché qui c'è veramente da avere paura e comincia quindi ad avvicinarsi a Mussolini dicendo facciamo qualcosa, io cercherò di avvicinarmi a voi, ma io ho, effettivamente facciamo qualcosa. Rizzo si ribella e Rizzo protesta, protesta molto duramente, dice se il fascismo fa qualcosa io affondo le navi degli armatori, per cui dico ai federati che vi affondo le navi. E qui siccome Rizzo di affondare le navi era capace, gli armatori hanno capito che forse era meglio e quindi la federazione non viene più toccata da questo punto di vista. Però si crea un'inclinatura, perché Rizzo rimprovera questo cedimento a Giulietti. Comunque che non fosse infondata i timori di Giulietti è chiaro. Il primo ottobre del 1922 viene assaltato, una squadra fascista l'assalta per ammazzare Giulietti, che si salva soltanto perché scappa all'ultimo secondo, si trova e riesce a scappare via, proprio all'ultimo secondo, proprio a San Marino, e riesce a scappare via per un attimo e non lo uccidono. Quindi che poi, diciamo, Giulietti ha temesse di morire, che se fosse qualche elemento a suo favore in questo senso, possiamo anche pensarlo. E qui succede forse il fatto che secondo me dal punto di vista storico più importante, e poi concludo, che è quello nell'ottobre del 1922, che probabilmente forse secondo me rappresenta il punto più nero forse della carriera di Giulietti stesso, cioè il famoso patto di metà ottobre del 1922 tra Mussolini, Giulietti ed Annunzio. Si incontrano segretamente a Gardone, si incontrano e si saprà soltanto 4-5 giorni dopo, ovviamente tutti gli storici le parlano, non sono certamente io che l'ho scoperto, e si fanno un patto. Praticamente questo patto per Giulietti rappresenta l'impegno di Mussolini a sciogliere tutte le corporazioni fasciste relative ai marittimi. Quindi tutte le organizzazioni dovranno essere sciolte, cosa che effettivamente poi Mussolini farà. Manterà unicamente la federazione lavoratore del mare di Giulietti, in cambio Giulietti con la federazione non ostacolerà nessun progetto di Mussolini e quello che è più importante, anche Annunzio non lo ostacolerà. E questo è più importante perché? Perché Annunzio era stato avvicinato da Giulietti e era stato avvicinato da Danitti anche, ma soprattutto da Giulietti. Giulietti era il grande nemico di, se vi ricordate, di Annunzio, perché era stato quello che aveva bombardato fiume. Ma si avvicinano perché anche Giulietti comincia a capire che è troppo pericoloso. Dice a facta di dimettersi, gli chiede, per presumere lui il comando del governo, per prendere il fascismo per le corna e distruggerlo. Perché Giulietti comincia a avere paura del fascismo e crede che sia andato troppo in là. Adesso non voglio entrare nei meriti, ma l'ultimo ministro degli interni del governo facta, si chiamava Taddei, era un durissimo antifascista che per un mese non ha fatto altro che combattere contro il fascismo. Aveva addirittura creato tutte le strutture dello stato d'assedio che avrebbe dovuto usare il governo facta per combattere la marcia su Roma. Taddei, si chiama Paolino Taddei, è stato poi un personaggio molto importante, studiato perché appunto per questa sua forma c'erano diversi, un altro ministro era Mendola che è stato ucciso dai fascisti, quindi non era un governo che non era pronto a fare lo stato d'assedio, era pronto, non era pronto il re forse, ma il governo era pronto. Però D'Annunzio cosa dice? Io farò una marcia il 4 di novembre di pacificazione, per cui il 4 novembre c'è la festa e facciamo la pacificazione. E allora a questo punto Mussolini dice o li freghiamo subito o ci fregano noi. Questa frase testuale detta da Mussolini. Siamo in questo periodo qui, siamo il 21 di ottobre. Nel giro di una settimana avviene la marcia su Roma. Mi dispiace, adesso ho finito, lascio la parola a Moreno, ma mi dispiace che non si veda perché c'è l'ultimo quadro che ho fatto, ho messo il famoso quadro di Giacomo Balla sulla marcia di Roma, sulla marcia di Roma dove si vede in questo quadro che adesso è di proprietà degli Agnelli, che aveva fatto proprio, e si vedono i vari personaggi, tra i vari personaggi davanti c'è addirittura tra i quadrumbiri Mastro Mattei. Guarda caso, ci sono i quadrumbiri e Mastro Mattei. Mi sono sempre chiesto come mai che un personaggio che tutto sommato poi non è stato di primo rilievo sia proprio lì davanti. Nella marcia di Roma Mastro Mattei sarà quello che a Perugia prenderà la prefettura e farà la base per far partire tutti i legionari, non so come si chiamavano, le camicie nere che poi entreranno a Roma. E quindi questa importanza a lui. E infatti poi verrà subito dopo Mastro Mattei verrà addirittura esiliato in Brasile, giusto per farvelo breve. Verrà esiliato in Brasile, ma siccome era molto amico di Giuriati, che è stato il primo capo, diciamo, di dannunzio a Fiume, Giuriati divenne segretario del partito fascista, lo richiamò immediatamente per fare l'epurazione, per mandare via i corrotti e quindi lui ritorna da Brasile, lo rimanda a fare questo e diventerà poi prefetto di Bolzano. Chiudo con questo dicendo che era un antitedesco, contrarissimo ai tedeschi. E Himmler nel 1940 va da Hitler dicendo che se volevano il riavvicinamento Italia-Italia-Germania, la prima cosa da fare Mussolini voleva la testa di Mastro Mattei. E infatti Mussolini nel 1939-1940 lo destituisce da prefetto per i suoi sentimenti antitedeschi. E Mastro Mattei addirittura aveva processato Verona, quindi ha una storia di un personaggio che è collegato molto a Giulietti e in qualche modo vi fa capire come Giulietti avesse intuito in certi personaggi, fin da quando erano giovani, certe potenzialità, certe cose in cui lui era probabilmente molto bravo. Giulietti sarà, con la marcia di Roma, sarà tra virgolette contento perché ha firmato questo patto pensando che Mussolini a questo punto, una volta con tutto il potere, sarà quello che in qualche modo lo asseconderà. Ovviamente niente di più sbagliato, come vedremo, l'errore clamoroso che farà, però sarà un errore che sconterà sulla sua pelle poi in futuro. Volevo innanzitutto premettere che il periodo considerato nel titolo della relazione che mi è stata affidata è in realtà un po' sovradimensionato. Con maggiore precisione mi concentrerò sul periodo della storia politica di Rimini che va dal 1919 al 1925. In sintesi mi occuperò del cosiddetto biennio rosso e del successivo biennio nero e molto rapidamente dei primi anni della nascita della dittatura. Ora, alcuni di voi forse sapranno che con l'espressione biennio rosso si indica comunemente il periodo della storia d'Italia, ma vale anche per molti altri paesi europei, compreso fra il 1919 e il 1920. È un periodo caratterizzato da una serie di lotte operaie e contadine, ovviamente sulla spinta della grande novità introdotta dalla rivoluzione bolshevica in Russia. Cioè, quindi si espande questa idea che attraverso l'occupazione delle fabbriche, come avviene in Italia nel 1920, si potesse riprodurre una situazione abbastanza simile a quella che era avvenuta con la caduta dello zar in Russia. Mentre con la locuzione storiografica biennio nero sono invece chiamati gli anni 1921-1922. Cioè, sono gli anni quindi caratterizzati dalla reazione successiva prevalentemente fascista al tentativo che avveniva in Italia di realizzare, poi vedremo insomma le difficoltà di quale tipo di realizzazione, di realizzare all'interno del nostro paese un ordine sociale di tipo socialista. Tenete presente che alcuni storici sulla scia di Giovanni Gentile in realtà confutano queste due categorizzazioni, biennio rosso e biennio nero. Già Giovanni Gentile, che fu il massimo filosofo del fascismo, in realtà vedeva in questo periodo che viene, come vi dicevo, vengono chiamati questi quattro anni, biennio rosso e biennio nero, in realtà un unico periodo di preparazione in realtà a quello che sarebbe stata la cosiddetta era fascista. e quindi anche oggi alcuni storiografi dicono che in realtà la distinzione biennio rosso e biennio nero è semplicemente funzionale a giustificare la reazione fascista che in realtà, se si guarda bene alla storia dell'epoca, in realtà si sviluppò quando quello che era il vero e proprio timore di un pericolo rivoluzionario in Italia era ormai praticamente finito e terminato. Che cos'è la grossa novità del dopoguerra, della fase politica dopo la prima guerra mondiale? Sono le elezioni del 1919 che applicano per la prima volta il sistema elettorale, il sistema elettorale proporzionale. Precedentemente in Italia si votava con il sistema uninominale, le ultime elezioni erano avvenute nel 1913, e l'applicazione del sistema proporzionale quale immediato effetto ha? Ha l'immediato effetto di danneggiare la vecchia classe dirigente. Col sistema uninominale naturalmente venivano premiati i cosiddetti notabili locali, col sistema proporzionale tutto questo ovviamente scompare. Questo serve anche oggi per capire, ad esempio, anche se come ci ricordava Andrea, bisogna sempre contestualizzare anche la differenza che c'è tra un sistema proporzionale è un sistema di tipo uninominale. Cosa succede? Però che assieme all'acqua sporca del notabilato locale si getta via molto probabilmente anche l'acqua limpida, in un certo modo, di quello che era stato rappresentato per tutti gli anni, dal Risorgimento fino al 1913, vengono gettati via i cosiddetti costituzionali dell'epoca. Cioè, chiamo costituzionali dicendo che i partiti che facevano parte, come Costituzione ovviamente ci riferiamo allo Statuto Albertino, i partiti che facevano parte della cosiddetta destra storica e sinistra storica, ovviamente scompaiono. Scompaiono quindi i liberali di origine cavuriana, scompaiono in un certo qual modo anche i repubblicani, che verranno anche indeboliti da questo nuovo sistema proporzionale. I partiti vincitori delle elezioni del 1919 sono sostanzialmente due. Il Partito Socialista, che ottiene a livello nazionale il 32% dei voti, soprattutto grazie alle regioni dell'Italia settentrionale, come Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. E il Partito Popolare, fondato nello stesso anno da Don Luigi Sturzo, ottiene circa il 20%. Tenete presente che anche la grande novità della presenza del cosiddetto Partito Popolare, i cattolici già dal 1870 attraverso il Papa avevano invitato all'astensione del voto da parte dei cattolici, ma nel corso dei decenni successivi diedero il permesso, il Vaticano diede il permesso alle organizzazioni clericali di partecipare, ad esempio, alle elezioni locali. La grande novità del 1919 è finalmente l'entrata in campo dei cattolici nella politica attraverso Luigi Sturzo. Quindi i partiti di fatto che risultano vittoriosi e che avevano la maggioranza, la maggioranza sono i socialisti col 32% e i popolari col 20%. 30 più 22 fa 52%. Se avessero ragionato come si ragiona negli ultimi decenni, capite bene che la cosa migliore per l'Italia in quel momento lì sarebbe stata un'alleanza tra il Partito Socialista e il Partito Popolare. Alleanza che ovviamente era del tutto impossibile, per quali motivi? Il Partito Socialista era un partito dichiaratamente anticlericale e in quegli anni, quelli del Biennio Rosso, in larga parte propenso alla violenza rivoluzionaria. L'altro, molto dipendente dalla Chiesa, nonostante si dichiarasse a confessionale, era di orientamento moderato. E quindi il risultato fu che gli eletti del Partito Popolare in realtà continuarono a fornire un sostegno esterno ai governi liberali che cadevano successivamente e che non riuscivano tra l'altro a risolvere nessuno, nessuno dei problemi politici che angustiavano l'Italia dell'immediato dopoguerra. nonostante questo, va detto che il clima dell'Italia di quegli anni lì era ovviamente fortemente rivoluzionario. In realtà, anche Andrea in parte l'ha detto, l'unico personaggio che poteva condurre veramente una rivoluzione in Italia in quel periodo lì, non sorprendetevi, era veramente Gabriele D'Annunzio. Però Gabriele D'Annunzio non era innanzitutto un politico, nonostante, insomma, ormai da molti anni D'Annunzio, non lo vediamo soltanto nell'impresa di Fiume, ma lo vediamo anche in precedenza, aveva già assunto spinte estremamente libertarie e rivoluzionarie. basti pensare soltanto, ve ne faccio solo un accenno, alla Carta del Carnaro, che fu la Costituzione di Fiume, scritta assieme al grandissimo rivoluzionario e massone, al Ceste de Ambris, che rappresenta, ve la sintetizzo in un attimo, ma rappresenta sicuramente qualche cosa di estremamente rivoluzionario e innovativo in un certo qual modo anche al nostro tempo, perché la Carta del Carnaro prevedeva suffragio universale e anche femminile, la democrazia diretta, il decentramento amministrativo, la funzione direttiva e autogestita dell'Associazione dei Lavoratori, divorzio, nessuna discriminazione sessuofobica, insomma, era un concentrato di diritti sociali e civili mai visto fino ad allora e forse mai visto neanche oggi, insomma, se qualcuno applicasse oggi la Carta del Carnaro, immagino che, insomma, in molti sarebbero sorpresi. Questo ci fa anche rendere conto che in realtà anche l'idea rivoluzionaria che serpeggiava in Italia non era fatta soltanto di violenza, ma era fatta anche di grandissimi ideali e anche molto, molto avanzanti. Insomma, in un certo qual modo, D'Annunzio, nell'anno, negli anni del biennio rosso e dell'impresa di fiume, era diventato l'idolo, il nuovo Garibaldi, in un certo qual modo, anche se, come spiegava Andrea, era, come anche lo stesso Giulietti, più avido di piaceri personali, rispetto al grande Nizzardo Garibaldi, insomma. Ma credo che anche lo stesso D'Annunzio si rese conto che in realtà, voglio dire, l'ideale rivoluzionario che propugnava non era realizzabile. lo spiega poi anche sul suo successivo percorso di vita. Lo stesso Mussolini, che si reca, finalmente, dopo vari tentenamenti a fiume, gli spiega che era impossibile tentare la marcia su Roma, che sperava anche Capitan Giulietti, e te, eccetera, perché non avrebbe mai avuto, dalla sua parte, una componente fondamentale di quel tempo, cioè l'esercito. L'esercito sarebbe stato favorevole al re, perché mi sono dimenticato di dirvi, ovviamente, che la carta del Carnaro non era, ovviamente, monarchica, ma era fortemente repubblicana, e quindi, in realtà, tutte queste spinte, tutte queste spinte, furono frustrate. Vi dicevo, il successo del Partito Socialista, ma anche il successo del Partito Socialista, non riesce ad essere, in una qualche maniera, capitalizzato. Da una parte, il Partito Socialista è diviso tra massimalisti e riformisti, poi il Congresso di Livorno del gennaio 1921 chiarirà un pochino le cose con la scissione e la nascita del Partito Comunista, guidato da Amedeo Bordiga, e la successiva costituzione del PSU, Partito Socialista Unitario, di Matteotti, vedrà anche staccarsi dal PSI un'ala più, chiamiamola così, più riformista, più riformista, rispetto alla non chiarezza che aveva il Partito Socialista. Che cosa voglio dire? Voglio dire che in quegli anni da parte del Partito Socialista non viene svolta né un'azione profondamente rivoluzionaria dal basso per la conquista del potere, ma anche la sua presenza in Parlamento non recepisce le istanze dal basso e non sa condurre nemmeno in Parlamento una politica riformista. cioè abbiamo un Partito Socialista che esce vittorioso dalle elezioni come primo partito in Italia ma che non è in grado di utilizzare e capitalizzare i voti che ha ricevuto. Ora, in questa situazione torniamo un attimo al 19. con estrema sintesi c'è un libretto che fece Pietro Nenni il diciannovismo utilizzò molto sinteticamente insomma l'ebbrezza che nasce nel 19. Che cosa succede? Vi ho dato il quadro delle elezioni nazionali vediamo un attimo che cosa succede a Rimini nel circondario. Nella sola Rimini il PSI nel 19 ottiene 3488 voti i popolari 1180 i liberali 698 e i repubblicani 308 quindi vedete chiaramente la fotografia di quello che vi dicevo cioè i partiti della destra della sinistra storica vengono cacciati via e si affacciano anche a Rimini due nuove forze il Partito Socialista e il Partito Repubblicano e il Partito Popolare a livello amministrativo ovviamente questi risultati del 19 molte volte si dice che le elezioni politiche non devono influire sulle elezioni locali in realtà noi vediamo a Rimini che nel 1919 i risultati di queste elezioni politiche provocano un terremoto amministrativo locale cioè la giunta riminese e tutti gli altri organismi organismi legati al comune come la congregazione di carità il monte di pietà le aziende molino e forno cioè tutte le aziende comunali rassegnano le dimissioni mettendo in crisi tutta la struttura organizzativa del comune la giunta presieduta dal sindaco di Otallevi si dimette arriva un commissario un commissario prefettizio e successivamente l'anno dopo un altro commissario prefettizio che indice le elezioni nel frattempo c'è anche uno slancio di tutte le organizzazioni sindacali sia operaie che contadine nel gennaio del 1920 c'è lo sciopero del sindacato dei ferrovieri organizzato da Mario Macina che forse qualcuno si ricorda si ricorda ancora e fu una stensione dal lavoro talmente massiccia da preoccupare molto i moderati moderati riminesi nel frattempo oltre a questa massiccia stensione dei ferrovieri si alternano altri scioperi di categorie minori abbiamo l'astensione dal lavoro dei fornai dei metallurgici degli impiegati e camerieri dei tramvieri e facchini il 27 maggio il consiglio comunale è ufficialmente sciolto e vengono indette le nuove elezioni per il 17 ottobre tenete presente che in questa fase Rimini è caratterizzata da 58 leghe operaie e contadine che raggiungono la cifra addirittura di 5.000 iscritti allora credo che la popolazione della città di Rimini fosse sui 35 35.000 cittadini quindi insomma una cifra abbastanza consistente significa che almeno un cittadino su 7 era iscritto al sindacato il 28 giugno sempre del 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 1920 comincia ad esserci lo sciopero generale lo sciopero generale nelle nelle campagne sciopero generale al quale aderisce almeno inizialmente e inizialmente anche le leghe le leghe di stampo cattolico in realtà io vi ho fatto questo parallelo e questa ipotetica alleanza possibile tra socialisti e popolari perché da un punto di vista sociale almeno a parole larga parte della chiesa tendeva un pochino a imitare imitare insomma la magari più all'acqua di rose quella che era la politica socialista cioè ad esempio i contadini i contadini che ancora erano larga parte del nerbo elettorale del partito popolare appoggiavano tutta una serie di battaglie sindacali succede che addirittura a luglio i coloni scioperano e marciano verso la città accompagnati dal bestiame soprattutto soprattutto vacche ci sono entrambe le due leghe la lega bianca e la lega rossa lo slogan era non trebbiare e come vi dicevo scendono a rimini con il bestiame in maniera provocatoria perché fossero gli stessi padroni ad accudirlo questo qui è un po' il clima il clima insomma precedente le elezioni le elezioni del 17 ottobre il risultato è che ad agosto l'unione agraria è costretta a siglare a rimini un nuovo un nuovo patto colonico accettando in toto tutte le richieste dei lavoratori che sono in pratica direzione dell'azienda in comune era l'addebito al proprietario di ogni tassa fondiaria e dell'assicurazione contro la grandine l'abolizione delle opere gratuite e anche l'abolizione dell'escomio l'escomio che cos'era di fatto l'abolizione dell'escomio senza giusta causa cioè la possibilità che il padrone delle terre potesse dare la disdetta di locazione o di mezzadria senza alcuna motivazione quindi un grande successo del mondo contadino nel riminese poi ci sono magari anche cose un pochino un po' più pittoresche tipo il 14 settembre si svolge a Rimini una grande manifestazione a difesa della resistenza bolshevica contro le aggressioni capitalistiche si vedono 6.000 partecipanti 40 sono gli standardi gli oratori sono sostanzialmente anarchici e socialisti cosa in questo clima cosa succede succede che si ha una vittoria schiacciante dei socialisti che ottengono 32 consiglieri contro soli 8 dei popolari quindi una vittoria indiscutibile indiscutibile del partito socialista Rimini tenete presente che è la prima volta a partire dal 1860 dopo una lunga serie di amministrazioni clerico-moderate intercalate da gestioni da gestioni commissariali da sole quattro amministrazioni radicali la città vede salire vede salire al governo una giunta una giunta di sinistra viene eletto il medico Arturo Clari e per la via della città correva un ritornello arrangiato dal neoconsigliere Adolfo Porcellini sull'area di bandiera rossa ed era avanti o popolo per monti e mari e viva Clari e viva Clari dieci giorni dopo si insedia si insedia la giunta rossa il commissario Ernesto Reale pronuncia la formula in nome del re consegno che viene sostituita nell'accettazione da Arturo Clari in nome del proletariato il sindaco vi dicevo Arturo Clari un medico positivista specchiato anzi faccio un attimo uno spot personale uscirà prossimamente penso in autunno a settembre ottobre un libro intitolato il terzo volume di maestri maestri per la città è un volume dedicato ai sindaci massoni che sono che si sono succeduti nelle varie città e ci sarà una scheda compilata da me e dall'amico Claudio Masini proprio su Arturo Clari che ricordo perché mi sono dimenticato di dire ebbe l'avventura di non essere soltanto l'ultimo sindaco prima del fascismo ma ebbe anche l'avventura di essere nel 1944 il primo sindaco nominato dal comando alleato su istanza del comitato di liberazione nazionale sindaco socialista e sindaco massone l'altro sindaco massone che ci fu nell'ottocento era Carlo Alberto Masi uno dei rappresentanti di quelle uniche quattro giunte radicali che inframmezzarono il governo dei clerico moderati a Rimini dunque il 27 ottobre 1920 a Palazzo Lettimi il municipio allora non era agibile a causa delle lesioni sismiche del terremoto del 1916 viene insediato come sindaco Clari e Clari si presenta in questa maniera qui è uno stralcio del suo discorso di insediamento sono orgoglioso di potermi chiamare il primo sindaco socialista del comune di Rimini e questo non per vanità personale ma perché come uomo di parte constato attraverso la mia persona il trionfo dell'ideale socialista non mi dissimulo le difficoltà gravi e la responsabilità eccezionale che mi incombono ma ossequente come sono la disciplina del nostro partito vado ad accettarle del suo programma elettorale dice programma che è di difesa delle classi umili e di difesa contro il sistema capitalistico borghese responsabile principale delle miserie onde afflitta la dolorante umanità auspicando che le discussioni si svolgano serene nel libero dibattito delle idee senza spirito di intolleranza ma improntate all'interesse e al benessere della nostra città i soli due anni in cui sarà sindaco Arturo Clari in realtà nascono con grossissime difficoltà difficoltà innanzitutto di tipo finanziario il disavanzo delle casse comunali ci racconta Nevio Matteini nei suoi splendidi due volumi Rimini negli ultimi due secoli che aveva un disavanzo di cassa di 1.650.000 lire ma non era solo il problema del disavanzo di cassa era il debito che si era accumulato con le precedenti gestioni di Ottallevi e prima ancora cioè il debito del comune di Rimini assommava addirittura a 17 milioni di lire la grossa difficoltà che ha il sindaco Arturo Clari è di avere addirittura una sorta di boicottaggio dai due principali istituti di credito riminese cioè la cassa di risparmio di Rimini e il credito romagnolo il credito romagnolo addirittura che era sulla base di una convenzione la tesoreria del comune di Rimini diminuisce addirittura mi pare l'anticipo di cassa da 2 milioni e 200 mila lire che era la normalità nelle precedenti giunte a sole 600 mila lire quindi in realtà gli istituti di credito erano in mano ovviamente ai liberali moderati che osteggiano ovviamente la nuova giunta socialista e tentano ovviamente in qualsiasi modo di fare fallire tutte tutte le sue tutte le sue attività questo non non significa che Clari non e la sua giunta non facciano niente anzi bisogna dire che è Clari che avvia ad esempio la prima tramvia la prima tramvia italiana già Rimini era stata la prima città d'Italia ad avere il tram a cavalli con rotaie Clari è quello che fa partire ad esempio la tramvia elettrica che era già attesa da molti anni quindi dal 2 luglio 1921 abbiamo a Rimini quattro vetture con relativi rimorchi a conduzione elettrica su una distanza di poco più di 5 km partivano da piazza Cavour percorrevano via Gambalunga via le Principe Medeo e arrivavano fino a oltre piazza Tripoli e abbiamo la pubblica con Clari la pubblica illuminazione elettrica cioè abbiamo praticamente la sostituzione della città della vecchia illuminazione a gas a gas che fra l'altro non funzionava neanche benissimo si aveva una convenzione con una società belga però accadeva molto spesso che c'erano interruzioni della luce anche di addirittura 10 ore perché il gas non arrivava o aveva interruzioni e quindi viene viene elaborato il nuovo progetto di illuminazione di illuminazione elettrica e anche dal punto di vista delle attività culturali Clari si distingue abbiamo le celebrazioni del sesto centenario della morte di Dante a Lighieri dove Rimini addirittura in quell'anno è assieme unita Ravenna a Firenze e a Roma grandi celebrazioni si svolgono a Rimini nel gennaio del 22 Clari comincia anche i lavori di consolidamento ripristino del teatro Vittorio Emanuele oggi teatro Galli anche il teatro Vittorio Emanuele aveva subito danni a causa del terremoto del 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 sedici del sedici viene avviato anche sotto la giunta Clari cosa che non bisogna dimenticare è anche il distacco delle due parrocchie di Riccione in comune in comune autonomo cioè le prime delibere che vengono fatte sull'autonomia del futuro comune di Riccione accadono accadono sotto la giunta Clari anche dal punto di vista di quella che oggi noi chiamiamo la protezione civile la giunta Clari potenzia estremamente le strutture e gli apparati dei vigili del fuoco dei vigili del fuoco e abbiamo anche cosa che ci ricorda un pochino i nostri tempi anche una politica turistica condotta dalla giunta Clari che sostanzialmente si basa sul potenziamento del sistema fognadio vedete ne discutiamo ancora dopo cent'anni della nostra città e l'estensione l'estensione di quello stradale è la sistemazione dei fabbricati dei fabbricati per i per i servizi turistici cioè le infrastrutture le infrastrutture turistiche tuttavia assieme a questi risultati che vengono in generale apprezzati dalla città ci sono naturalmente altri altri risultati che scontentano scontentano ovviamente parte della città vi avevo spiegato le difficoltà ad esempio finanziarie perché non riusciva la Giunta Clari a ripristinare normali flussi di credito dagli istituti bancari una delle leve è ovviamente aumentare le tasse nei confronti dei siti più ambienti vengono naturalmente istituite anche tasse sui vani sui vani delle abitazioni private sul numero dei vani quindi diciamo che la Giunta Clari in quanto socialista sostiene sostiene le classi più umili cerca di investire nell'amministrazione ma al tempo stesso ma al tempo stesso contesta detto questo che è la parte amministrativa i grossi problemi nascono invece dal punto di vista dal punto di vista dei frammenti nella società cioè siamo già nel 1921 quindi è l'inaugurazione del cosiddetto del cosiddetto bienio nero il 15 maggio del 1921 ci sono delle nuove elezioni politiche perché il governo è caduto al Parlamento e dimissionario e quattro giorni prima delle elezioni un maggiore medico di nome Carlo Bosi viene viene fermato da quattro sconosciuti lungo lungo la strada di San Marino a Serravalle e viene fatto ripartire ma mentre riparte gli vengono sparati due colpi di pistola omicidio poco chiaro perché Bosi non era un fascista anche se aveva un figlio che era uno 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 squadrista forse ci fu un equivoco perché sembra che la sua macchina portasse una bandierina tricolore e quindi fu ritenuto come un'avanguardia di una squadra fascista che si stava per recare a San Marino e Clari addirittura insomma si reca nella casa di di Bosi che ancora non era morto ma moribondo per attestargli pubblica stima si svolgono le elezioni il 15 maggio subito dopo qualche giorno dopo la cosa sarà funestata dall'omicidio di di Platania altre omicidio poco chiaro però si trattava comunque di un personaggio che era stato tra i fondatori dei fasci di combattimento a Rimini quindi un clima estremamente surricaldato cosa succede nelle elezioni politiche del 15 maggio di nuovo successo dalla sinistra a Rimini con 3.703 voti ai socialisti 1.532 ai popolari 803 al blocco nazionale che era la coalizione con i fascisti 602 ai comunisti che sono nati da poco per una scessione del PSI e 421 ai repubblicani vi dicevo omicidio di Platania nel frattempo i fascisti normalmente fascisti a Rimini in quel periodo ve lo dico erano pochissimi tant'è che se arrivavano dei fascisti arrivavano le squadre cosiddette balbiane arpinatiane cioè arrivavano le squadre da Ferrara e da Bologna però erano squadre che insomma mettevano normalmente a ferro e fuoco Rimini i due martiri vengono vendicati con spari in piazza Cavour scorrerie in borgo San Giuliano la devastazione del circolo anarchico 13 ottobre del circolo dei ferrovieri di via Clodia della cooperativa dei pittori e infine esplodono anche con armi da fuoco e bombe petardo nella casa addirittura del sindaco del sindaco Clari allora allora in via Castelfidardo e oggi invece via Arturo Clari insomma è una casa proprio d'angolo che esiste che esiste ancora vi dicevo bomba petarda lanciata le finestre dell'abitazione del sindaco Clari e cosa succede assassino anche alcuni giorni dopo a Santa Giustina un fascista viene ferito e i fascisti rispondono sparando contro una folla tra l'altro non sicuramente di antifascisti perché partecipavano a un corteo della chiesa per il corpus domini cadono a terra tre persone quindi questo questo è il clima è il clima è il clima è il clima in cui Liliano Faenza dice i castigamenti era tramontato il bienio rosso per gli uomini di Arturo Clari era cominciato il bienio nero cosa succede succede che nel luglio del 1922 Clari attraverso un manifesto annuncia annuncia la volontà della sua giunta di presentarsi presentarsi di missionaria cosa che sarà immediatamente dopo pochi giorni nel manifesto si legge la lunga aspra lotta sostenuta per circa venti mesi contro ogni sorta di difficoltà di contrasti di fidenze dall'eredità finanziaria disastrosa all'assenteismo degli istituti di credito locali alla resistenza dei contribuenti alle more degli uffici e dei poteri dello Stato è culminata oggi nella violenza contro le persone degli amministratori si è voluto anche riferire i torbi di cittadini alla permanenza in carica dell'amministrazione nonostante questo viene indetto nonostante questa volontà di dimettersi viene indetto uno sciopero generale il 31 luglio 1922 ma è uno sciopero generale che nonostante vedesse la partecipazione dell'alleanza del lavoro della UIL dell'anarchica USI unione sindacale italiana del sindacato ferrovieri insomma un sacco di sigle lo sciopero fallì Clari quindi rassegna rassegna le sue dimissioni è abbastanza curioso perché tutto questo avviene mentre nel settembre siamo nel 1922 i fascisti si recano anche a si recano anche a San Marino devastano la casa del popolo e alcuni giorni dopo secondo alcune fonti il 7 settembre secondo Andrea il primo mi pare primo ottobre una squadra fascista entra a San Marino dove in quel periodo si era rifugiato proprio Capitan Giulietti per sfuggire alle persecuzioni non sappiamo se questa squadra fascista fosse giunta per catturare Giulietti o addirittura fosse un vero e proprio tentativo tentativo di assassino per fortuna Giulietti riesce a non farsi trovare in casa non riesce a farsi trovare in casa e tuttavia la casa dove soggiornava Giulietti viene totalmente devastata 28 ottobre 1922 c'è la famosa marcia su Roma una settimana dopo a Rimini dopo la marcia su Roma una settimana dopo a Rimini le squadre fasciste assalgono le carceri che allora erano una rocca malatestiana e vengono liberati tutti i fascisti detenuti per reati politici e il 30 ottobre gli squadristi occupano addirittura il municipio il municipio sul balcone di Palazzo Garampi sventola assieme al gonfalone del comune di Rimini il gagliardetto il gagliardetto fascista questo quindi sono è la fine diciamo del 22 nel 23 ancora la la prefettura di Forlì si occupa segretamente di 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 Arturo Clari e in uno schedario si dice il dottore Arturo Clari si fece notare subito per il fervore dei suoi convincimenti socialisti ed anche per la distinzione dei modi per la cultura ampia per l'onestà personale partecipando con scritti su giornali discorsi di propaganda eccetera a tutte le manifestazioni di partito attualmente si dedica alla sua professione di medico ed è ritenuto pericoloso perché è uno di quelli che è capace di risaldare le file dei socialisti va diligentemente sorvegliato e in effetti non potendo più esercitare l'attività politica Clari si dedicherà all'unico compito professionale che gli è rimasto quello di medico in tutti gli anni del fascismo sarà sempre considerato il medico degli umili nel senso che curerà le persone più povere e più disagiate a Rimini addirittura gli capiterà di aiutare una vicina di una famiglia numerosa che stava per partorire non era stata trovata d'ostetrica funge lui da ostetrico e dopo alcuni mesi adotterà questa ultima figlia di una famiglia numerosissima famiglia fra l'altro il capo famiglia era un noto anarchico quindi vedete anche come gli steccati politici da Clari non venivano non venivano assolutamente veduti adesso non me lo ricordo però nel libro Scampi sì Scampi esatto e insomma Clari che cosa fa fa l'unica cosa che gli è rimasta a disposizione non potendo più fare politica è di fatto la pratica la pratica dell'umanità ed è forse questo qui un grande insegnamento che ci dà che ci dà ancora Arturo Clari cioè quando sembrano essere perse tutte le speranze di una possibilità di fare una libera attività politica forse quello che ci rimane sostanzialmente da fare è la pratica dell'umanità quindi questo io credo che sia stato un grande insegnamento dal 1925 arrivo arrivo alle conclusioni spero di non avervi stancato troppo non ho controllato l'ora ma mia moglie mi sgriderà sicuramente perché mi dirà che sono stato troppo lungo come al solito dal 1925 il fascismo diventa regime dittatoriale vi faccio soltanto qualche qualche puntata nasce accennavo prima il partito socialista unitario di Turati e Matteotti fu forse il partito più perseguitato più perseguitato dal fascismo molto di più del partito socialista vi spiego perché perché oltre alla uccisione del suo segretario Matteotti fu il primo partito di opposizione ad essere sciolto d'imperio il 14 novembre 1925 questo perché c'era stato un fallito attentato a Mussolini da parte di un suo iscritto Tito Zaniboni avvenuto il 4 novembre del 1925 ne fa le spese anche la libera mulattoria perché Tito Zaniboni dal 1920 era iscritto era iscritto a una loggia massonica del Grande Oriente d'Italia non a caso a Rimini il 7 novembre cioè quindi quindi tre giorni dopo l'attentato l'attentato a Bologna un gruppo fascista assalta la casa massonica in via Cavalieri oggi domenico viangherà all'angolo di Vicolo Mastini la polizia non è presente anzi si reca in un'altra in un'altra zona vanno in via Clodia via Castellaccia quindi fingendo di non vedere quello che succede viene naturalmente alcuni giorni dopo sia su un manifesto sia su un giornale chiamato il 33 eccetera pubblicato l'elenco dei massoni riminesi dove ovviamente nell'elenco risulta anche risulta anche Arturo Clari ora termino facendo una riflessione che non vuole essere in contrasto con con ciò che diceva Andrea cioè che noi non possiamo fare paragoni e non possiamo pensare che la mentalità la mentalità di quell'epoca fosse identica alla mentalità nostra però io ho un caro amico che si chiama Luciano Canfora che forse conoscete che non è soltanto un filosofo è un filologo ma è anche un notista politico insomma uno studioso di Gramsci uno che ancora forse si dichiara un comunista ma sicuramente un comunista di tipo molto molto ideale che ha detto recentemente la storia non si ripete mai allo stesso modo tuttavia quello che è accaduto ieri aiuta a capire meglio quello che sta accadendo oggi c'è una ragione in fondo crociana per cui la storia è sempre contemporanea e ha proseguito dicendo siamo mossi da domande attuali non accade se non per il gusto dell'eruduzione fine a se stessa che si va dalla ricerca del passato per il passato leggendo queste cose qui mi è venuto da pensare che 2019 fa rima con 1919 voglio dire è qualche cosa voglio dire che viene che viene a volte che viene a volte in mente perché perché anche nel 2019 per certi aspetti anche se ovviamente i fenomeni di oggi non si possono paragonare né mi verrebbe mai in mente anche se Canfora si azzarda in un certo qual modo a paragonare la nascita del fascismo nel 1919 con questo 2019 anche se non gli dà dei fascisti dà però a certe forze politiche il termine di fascistoidi per dire che non sono esattamente fascisti ma in qualche maniera in qualche maniera in una maniera grottesca in una maniera ironica possono possono assomigliare però se ci pensate anche in questo 2019 ci sono agitazioni confuse ci sono parole d'ordine un pochino un pochino perentorie e spesso anche altrettanto altrettanto inconsistenti l'idea del voler cambiare tutto e subito uno slogan estremamente perentorio poi si scontra si scontra con la realtà dei fatti un certo disprezzo per la democrazia per la democrazia liberale c'è c'è anche c'è anche oggi questa continua ricerca febbrile di un capro di un capro espiatorio può essere l'immigrato ma può essere anche il massone così come è successo negli anni negli anni successivi al 1919 e soprattutto il caparbio è compiaciuto rifiuto di riconoscere i vincoli imposti dalla realtà penso come vincoli imposti dalla realtà ad esempio i vincoli che ci sta imponendo l'Europa e che si fa finta di che l'Italia non abbia stipulato dei trattati degli accordi e così via quindi queste maniere qui certo di differente c'è che nel 1919 si usciva dai disastri di una prima guerra mondiale noi oggi usciamo da un disastro non ancora terminato della grande crisi economica nata nel 2008 che è sicuramente diversa dai danni che può provocare una guerra ma che tuttora provoca tuttora provoca povertà e provoca anche anche paura e non a caso che un grande pensatore come Gaetano Salvemini individuava nel fascismo allora la paura piccolo borghese di perdere quel poco che era riuscito a raggranellare in un certo qual modo il poco che noi siamo riusciti oggi a raggranellare sicuramente non è identico a quello del 1919 non è identico perché oggi abbiamo patrimoni immobiliari patrimoni immobiliari parco vetture che nel 1919 nessuno si sognava gli smartphone welfare state insomma un'altra caratteristica invece che è simile è il disprezzo per il culturame nel 1919 si usava proprio questo termine qui cioè è sempre stata una caratteristica della reazione disprezzare chi studia e chi pensa e da questo punto di vista il 2019 purtroppo non è molto diverso dal 1919 vi ringrazio della pazienza allora intanto grazie Moreno grazie caro amico Montemagli perché voi ci avete aperto un mondo io parlo per me ma penso che anche mi potranno essere del mio parere anche gli astanti gli amici perché guardando le cose con questa lente cioè noi ci eravamo riproposti anni fa un paio di anni fa di parlare di Giulietti non soltanto in termini celebrativi enfatici e retorici che ci viene molto facile a volte però di guardare la sua vita il suo operato la sua azione scandendola in decenni per esempio allora dal 1915 al 18 dal 19 al 21 e questo fa sì ci offre il destro per allargare punto di vista cioè guardando le cose così minutamente minuziosamente quasi quotidianamente noi veniamo a scoprire delle realtà delle situazioni e veniamo a conoscenza di fatti che di cui ci siamo o dimenticati o non abbiamo mai conosciuti mai saputi per esempio ho prestato mi incuriosisce poi potrebbe essere motivo di un ampliamento di discorso quando tu hai parlato del caso Arpinati e dei convolezimenti della famiglia Mussolini anche in torbide faccende finanziarie di quattrini insomma questa è una cosa molto interessante che andrebbe detta per esviscerare la personalità i tuoi riferimenti continuamente alla presenza all'identità massonica e a quanto contasse la massoneria e quante beneficamente intendo positivamente eccetera e tutte queste ci aprono un mondo che vale la pena di continuare ad esplorare quindi io penso che questa nostra diciamo decisione questa scelta di volere ogni anno portare qui davanti a questi nostri amici questi frammenti che poi alla fine costituiranno tutto il racconto generale è una cosa vincente molto importante e noi tutti gli anni poi produciamo un libretto che documenta queste conversazioni quindi in distribuzione adesso quello che riporta le discussioni dell'anno scorso e l'anno prossimo sarà quel poi adesso se qualcuno e dunque io non sono d'accordo con tua moglie che ti rimproverà sei stato lungo perché più parli e più noi siamo interessati ad ascoltarti quindi per noi va benissimo bravo bravo vedi e se lo dice lui come si allora no no va bene così sentite se c'è qualcuno che vuol dire qualche cosa o fare qualche domanda vi prego perché è nei patti eh prego siccome tu hai parlato di Arpinati il mio nonno è di Galeata Arpinati era di Civitella ed erano molti amici e mio nonno era anche amico del Duce perché si conoscevano di fatti il Duce andava a Riccione in vacanza invece la donna Edvige veniva a Rimini in casa del mio nonno a fare le vacanze per dirti un po' come era la faccenda quando il Duce mise in prigione Arpinati anche il mio nonno andò a Rimini in prigione qui alla Rocca perché era seguaci era fascista diciamo però era seguaci di Arpinati è questo che ti volevo dire grazie c'è un elenco del prefetto di Forlì con tutti gli amici di Arpinati che dovevano essere in qualche modo tra cui anche Pietro Palloni che ha dovuto immediatamente non immediatamente ma in pochissimo tempo di mettersi da potestà e fare quindi diventare Mattioli al suo posto nonostante che Palloni avesse avuto parecchie benemerenze con quello che aveva costruito aveva fatto positivamente o negativamente le distruzioni attorno all'arco San Giuliano oppure il lungomare se ricordato anche ricordo sempre io da Fellini e Marcord ecco il lungomare di Palloni però il fatto che fosse amico di Arpinati lo ha reso assolutamente inviso al regime e purtroppo Forlì era appunto il prefetto di Forlì era ovviamente un punto nevralgico perché Bagno di Romagna dove erano le terme dove faceva gli affari la donna Rachele era dentro Forlì perché il Duce aveva messo nella provincia di Forlì aveva allargato la provincia aveva messo anche le zone che una volta erano dell'ex Gran Ducato in Toscana e quindi lui si è trovato una lista di persone tra cui uno di questi più famoso forse per i più famosi è stato anche Torquato Nanni quello che ha scritto anche di Giulietti che era socialista che è stato quello che ha fatto conoscere Rachele a Mussolini è stato quello che è stato un po' nell'osteria Guidi dove Rachele è stato lui ecco è probabilmente sempre quello che la voi non so sempre quello fatto sta che lui ha fatto due anni di confino proprio nonostante appunto questa amicizia in quanto amico di Alpinati è stato salvato dallo stesso Alpinati una volta da un pestaggio Nanni che era un socialista e questo è stato veramente un punto fondamentale 33 è stato Starace chi ha fatto è stato Achille Starace che ha fatto lui scattare tutto volendo prendere il posto ovviamente come segretario nel cuore del Duce a posto di Alpinati che era il numero 2 che era l'unico che poteva dargli del 2 al Duce nel 32 e quando Duce nel 32 ha fatto un circolare che nessuno gli poteva dare del 2 l'unico che lo faceva ancora era Alpinati quindi il rapporto era molto stretto e forse anche per quello che l'ha voluto mandare via non lo so quanto sta che Alpinati Starace si è collegato con Rachene Mussolini e ha quando Alpinati ha denunciato al Duce queste manovre poco chiare lei è andata da Starace Starace è andata da Mussolini gli ha fatto una lettera con un elenco di accuse contro Alpinati che serviva appositamente al Duce per mandarlo al confino e poi insomma Alpinati è stato è stato è morto dai partigiani nel 45 Malacappa si chiamava avevano tenuto vicino a Bologna nel 43 era stato chiamato Repubblica Sociale Alpinati ma lui non l'aveva accettato ed era insieme ha troccato a Nanni erano insieme perché loro erano amici da quella volta e sono stati ammazzati tutti e due lì nel 45 ad aprile a Campania erano insieme lì e sono arrivati anzi sembra che Nanni abbia voluto fare in qualche modo si è stato ucciso perché ha cercato di fermare i partigiani dicendo no ma lui non è più fascista da tantissimi anni mi ha protetto la mia cosa invece hanno sparato tutti e due questa è una vicenda della famosa abbastanza famosa non è che io la racconto perché l'ho scoperta io ci mancherebbe è solo perché è una cosa molto particolare che riguarda Rimini perché Alpinati era protettore di Rimini e quindi era insomma Palloni era sostanzialmente una longa marzo di Alpinati Alpinati si sentiva un po' un po' lui un protettore di questo e quindi Rimini in quel momento ha avuto una bella scoppola dal punto di vista del fascismo perché invece la villa di Mussolini è abbastanza nota il fatto che lui abbia costretto a vendere chi aveva la proprietaria con pressioni tutto se non vendeva se non vendeva quella villa lì avrebbe avuto e hanno avuto delle varie varie persecuzioni naturalmente a prezzi assolutamente cioè a prezzi simbolici insomma ecco e questo sì a prezzi politici Giulio Starnini io ti volevo chiedere perché ho capito solo stamattina che Giulietti ha avuto in questa fase degli anni 20 due momenti addirittura si è colto bene stamattina gli interventi in cui ha rischiato di andare in galera letteralmente e poi invece sapevo successivamente che verrà portato al confine al confino durante la regina presista quali sono le cause sono le stesse c'è qualche differenza magari se è oggetto delle prossime conferenze però se ci puoi dare un'anticipazione allora Samadino ce l'ha proprio rifusato perché adesso ha messo in carcere è messo in carcere allora c'era un mandato di arresto non si capì all'inizio gli avevano detto che non era proprio un mandato di arresto ma soltanto un mandato una specie di mandato comparire come così in questura ma lui non si è fidato giustamente perché in realtà è stato trasformato in mandato di arresto e lui è scappato via per la questione delle navi russe cioè per questa questa specie di assalto alle navi che aveva fatto lui nel patto del 1917 scusate l'ottobre del 1917 c'era proprio scritto questo che c'era questo patto c'era che tra le varie cose Mussolini se avesse preso qualche maniera il governo eccetera eccetera avrebbe comunque fatto un'amnistia nei confronti di tutti quelli che facciano parte a gente di mare cosa che Mussolini fece il ministro della giustizia il primo ministro della giustizia di Mussolini era Aldo Viglio che è nato a Rimini riminese infatti io dico la coincidenza il quale fece proprio come prima proposti legge l'amnistia per tutti le persone del gente di mare precedentemente e così Giulietti fu scagionato e quindi con l'amnistia fu lasciato libero il confine origine invece è un'altra cosa cioè dalla malversazione dei fondi Giulietti aveva tanti soldi neri soldi molti soldi parecchi milioni di lire questi soldi quando il fascismo ha cercato di prendere la diciamo così faceva una gola li ha trasferiti in Francia cosicché quando l'hanno esautorato sono andati a prendere la cassa la cassa era vuota perché i soldi erano spariti questa cosa ovviamente non è andata bene perché loro l'avano presa apposta per prendere i soldi ovviamente e quindi ha cominciato il processo lui ha cercato di difendersi in tutte le maniere e ce l'ha anche mezza fatta diciamo in qualche modo però dopo questo sarà tutto perché c'è un Mussolini sembrava distante ma in realtà seguiva tutto e ha fatto fare l'archivio di Stato la copia di tutti gli atti del processo di Giulietti che sono circa 700-800 foglie di tutto il processo e ci sono l'archivio di Stato per cui c'erano le testimonianze e si vede che ogni tanto gli appunti di Mussolini in cui dava diciamo istruzione alla magistratura di come si devono comportare quindi in realtà la magistratura negli anni 20 ancora era abbastanza indipendente per cui non era facile neanche per Mussolini intervenire però si vedono gli appunti dire a procuratore generale o Cassazione o a quello o quell'altro così perché poi in qualche modo col tempo è si è iniziato sempre potente e ce l'ha fatta e si vedono proprio degli appunti delle note in cui lui da una parte Mussolini lo voleva castigare ma da una parte non voleva neanche renderlo un martire quindi era tutta una situazione che poi affronteremo magari in cui è imposta e lì c'è tutta la descrizione di soldi perché nelle testimonianze si vede anche questi denaro che fine ha fatto che giro ha fatto sono un maloppo di carte da studiare perché sono parecchie con tutti questi molto specifici sui fatti però e quello è una cosa completamente diversa l'altra è per le navi questo proprio per il denaro il denaro come sempre purtroppo conta vi dicevo nel 1919 grande successo del partito socialista del partito popolare mi sono dimenticato di parlare del grande successo di Capitan Giulietti che viene eletto parlamentare perché viene eletto parlamentare Capitan Giulietti si crea si candida Genova e si crea un partito su misura che chiama partito del lavoro l'unico che viene eletto ovviamente è un partito che non supererà mai i confini della città della Lanterna è esistito soltanto per il 1919 per lo splendido 1919 unico eletto del partito del lavoro Capitan Giulietti mi chiedete ma che programma politico aveva il partito del lavoro se andate a vedere il programma politico del partito del lavoro era in realtà un programma di tipo socialista riformista questo poi non gli impediva con denunze invece di fare il rivoluzionario fare gli atti di pirateria per finanziare per finanziare l'impresa di fiume quindi questo qui vi dà un pochino il quadro di che personaggio che personaggio avventuroso e spregiudicato fosse sotto certi aspetti Capitan Giulietti si chiamava del lavoro per un motivo però era finanziato e fatto dal giornale Il lavoro che era giornale di Canepa che era un social riformista fondatore perito socialista nel 1892 ma poi si era staccato perché era legato a Bissolati e a Bonomi che erano dei social riformisti è stato un interventista come Giulietti molto collegati perché Giulietti scriveva sul giornale del lavoro quindi tutto questo ha fatto sì che Canepa che è sempre stato un parlamentare credeva essendo capolista e Giulietti venendo per secondo deve essere letto lui Canepa e mentre è stato letto Giulietti e questo ha creato un po' di malumore tra i due ecco questo è stato un po' così infatti dopo tra di loro i rapporti si sono molto raffreddati se non ci sono altre domande non sciogliamo grazie a tutti